E' iniziato ufficialmente il trasluco degli uffici del Consiglio regionale dalla vecchia sede di via Capruzzi al nuovo palazzo di via Gentile nel rione Iapigia di Bari. Entro dieci giorni saranno pronti a trasferirsi anche i 400 dipendenti e i 51 consiglieri regionali, presidente compreso, che in questo periodo dovranno osservare necessariamente una pausa forzata dei lavori. L'entusiasmo per il cambio di residenza del Consiglio regionale è però subito smorzata dai primi risultati delle indagini avviate dalla Procura di Bari e dalla Corte dei Conti sui presunti costi sovrastimati della nuova sede. La Guardia di Finanza, a cui è stato delegato l'approfondimento sull'appalto, ha rilevato uno spreco ingiustificato di soldi pubblici nell'acquisto di 1.600 plafogniere da 637 euro l'una, un danno da circa 600 mila euro. Negli scorsi mesi il caso era arrivato alla ribalta nazionale, costringendo lo stesso presidente Michele Emiliano ad avviare una verifica interna sulla congruità delle spese sostenute per la ristrutturazione del palazzo di Via Gentile, che originariamente dovevano ammontare ad 87 milioni di euro, ma ora rischiano di sfondare quota 100 a causa delle varianti per aggiornare il progetto ed eliminare opere inutili come fontane, palestre e campi da calcio, e in considerazione delle parcelle milionarie presentate dai progettisti e del rischio di risarcimento per l'ingegnere Michele Cutolo, che nel 2002 partecipò alla gara d'appalto risultata poi truccata. L'inchiesta dalla procura di Bari per frode in pubbliche forniture nacque in seguito alla denuncia del Codacons e di un esposto presentato dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in cui venivano elencati i presunti sprechi.